Svora ATX, benvenuti! Oggi vi presentiamo questo bellissimo Mercedes-Benz Citan. Si tratta di un furgone immatricolato N1, quindi si tratta di un autocarro, con un motore 1.5 CVI 109 KV. Il colore è un grigio scuro metallizzato. Si tratta di una vettura diesel con cambio manuale immatricolata nel 2016. Come potete ben vedere, l'auto è lunga esattamente 3,94 metri, una larghezza di 2,14 metri e un'altezza di 1,81 metri. Andiamo a vedere la parte furgonata con un peso ammesso di 3,460 kg. Comodissimo, si può mettere qualsiasi cosa, spazi molto ampi. A staccare la parte anteriore abbiamo la solita gabbietta per gli autocarri. Qui invece vediamo la parte anteriore con due posti, posto guida e posto per il passeggero. Cambio manuale, radio, clima automatico, qui abbiamo il freno a mano, abbiamo anche il park assist e il lane assist. interni con sedili in tessuto e questo bellissimo poggia-braccio invece impegno. Come per tutte le nostre vetture, anche per questo bellissimo Mercedes-Benz Sitan, lo trovate disponibile sul nostro sito, perciò venite a trovarci www.ratix.com. Alla prossima! Grazie! 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 Grazie!